Due argomenti, pompe di calore per capire che cosa sono e ventilazione meccanica controllata, perché sono due soluzioni che nelle nuove case in legno vengono molto spesso utilizzate. Adesso io non so quanto avete chiaro come funzionano le pompe di calore, c'è qualcuno che ha utilizzato le pompe di calore in impianti, io parto da zero, dico due cose proprio perché è un tema vastissimo, ma dico due cose generali sulle pompe di calore. Una pompa di calore è una macchina che permette di realizzare una trasformazione che in natura spontaneamente non avverrebbe mai. In natura è possibile far andare il calore da un corpo caldo verso un corpo freddo? Spontaneamente questo passaggio di calore avviene. Ma se io chiedo al calore di andare da un corpo freddo verso un corpo caldo? Non è possibile, è come l'acqua. L'acqua può andare da sola verso il basso, ma se voi chiedete all'acqua di andare su l'acqua da sola non ci va. Per andare su ci vuole una pompa, una bomba. È la stessa cosa, qui per far andare sul calore ci vuole una bomba di calore, perché bisogna pompare il calore da una temperatura bassa a una temperatura alta. Quindi una pompa di calore è una macchina che spende energia, come la pompa idraulica spende energia per fare andare l'acqua dal basso verso l'alto. Questa spende energia per portare il calore da bassa temperatura ad alta temperatura. Quindi, le bomba di calore, in termini, in principi generali, funzionano facendo qualcosa che in la naturalezza non occorre. In la naturalezza non troverà, in forma natural, una situazione in cui il calor fluye... Osea, lo normal, diciamo, in la naturalezza è che il calor fluye da un corpo caliente a un corpo frio. Nunca van a encontrar el caso contrario, en el cual, desde un cuerpo frio, a partir de un cuerpo frio, se logra calentar más un cuerpo caliente, y que por lo tanto el calor fluye, se saca de acá y se mete acá. La bomba de calor logra hacer exactamente eso, y se llama bomba de calor porque funciona de la misma manera conceptual como funciona una bomba de agua. Cuando nosotros queremos bombear agua, es porque la queremos hacer subir. En forma natural, el agua no sube. Uno no deja agua acá y mágicamente se transporta hacia arriba, eso no sucede. Para eso uno tiene que meterle energía para poder bombear el agua y llevarla de una situación de menor nivel a una de mayor nivel. Bueno, acá pasa exactamente lo mismo. Las bombas de calor son aparatos que logran bombear el calor. Eso significa que con el gasto de energía logran sacarle temperatura o calor a un elemento frío y llevarlo a un elemento caliente y seguir calentando aún más un elemento caliente. En casa, todos tenemos una bomba de calor, que es el frigorifero. Todos tenemos una bomba de calor en casa y ese es el refrigerador. porque el frigorifero se trae calor dentro del frigorifero donde queremos mantener 4 grados. El calor que lleva de dentro lo manda dentro la cocina donde tenemos el frigorifero. El refrigerador constantemente hace eso. Desde dentro del espacio del refrigerador roba calor y le va sacando calor y lo tira, lo desecha hacia fuera, hacia la cocina. Por eso los refrigeradores siempre están calientes por fuera y fríos por dentro. Ese calor es el que le logra sacar al interior del agua. Entonces, ¿por qué algunas máquinas se llaman bombas de calor y otras se llaman refrigeradoras? Depende del livello delle due temperature tra cui lavora la macchina. Cuando la macchina lavora tra la temperatura ambiente e una temperatura più bassa della temperatura ambiente, como el frigorifero domestico, 4 gradi dentro, 20 gradi in cucina, Esta es una máquina frigorifera, porque lleva calor por un objeto que es más fredo de la temperatura ambiente. Envece, cuando la macchina lleva calor por la temperatura ambiente para crear calor a una temperatura más alta de la temperatura ambiente, esta es una pompa de calor. Basicamente las dos máquinas son de funcionamiento muy similar, solo que operan en rangos distintos de temperatura. El refrigerador logra enfriar por debajo de la temperatura ambiente y la bomba de calor logra calentar por encima de la temperatura ambiente. Entonces la bomba de calor está diseñada para operar dentro, a partir de la temperatura ambiente, sacar calor de ahí y elevar la temperatura. Y este, en cambio, está diseñado para funcionar por debajo de la temperatura ambiente. Para hacer un ejemplo, una bomba de calor potrebbe, en inverno, tomar calor desde el área externa, que es a 0 gradi, a 2 gradi, tomar calor, y este calor que he tomado desde el área a 2 gradi, tramite la bomba de calor lo porto a 40-50 gradi. A ese punto caldo el agua del miro impianto, lo mando al radiatore, lo mando al pannello radiante y caldo la mi habitación. La bomba de calor, por ejemplo, es capaz de robarle calor al aire, por ejemplo en invierno, que está a 2 grados, es capaz de sacarle calor a ese aire, inyectarlo dentro de la casa y por lo tanto calentar dentro de la casa el recinto o el agua o lo que sea, que después hace el trabajo de distribuir el calor internamente dentro del recinto. La cosa interesante de la bomba de calor es que la misma máquina, ya que es un refrigerador, puede hacer tanto el recinto de agua como el refrigerador, así que con la misma máquina hago caldo y caldo. Lo interesante es que la máquina puede funcionar tanto para el refrigerador como para el calentamiento. Cuando la máquina puede hacer todas y dos cosas se llama la bomba de calor invertible. Cuando esa máquina puede hacer ambos procesos, tanto calentar como enfriar, se llama una bomba de calor invertible, no sé cómo se dice en castellano. Esto es el funcionamiento estivo, la máquina prende el calor de la casa y lo manda en el ambiente esterno, consumando energía eléctrica. Las prestaciones de esta máquina frigorifera son dadas por este coeficiente, que se llama Energy Efficiency Ratio del frigorifero. En el verano esta máquina, mediante un aporte energético, logra robarle calor al interior de la casa, por lo tanto enfriarla y enviar ese calor hacia afuera. Y eso, la eficiencia de esa máquina está determinada por ese valor, Energy Efficiency Ratio, que es el valor o la tasa de eficiencia energética. En el inverno esta máquina puede ser rovesciada, tomando calor por el exterior para darlo a la casa. El coeficiente que expresa las prestaciones de la máquina en el inverno se llama COP, Coefficient of Performance. Esta misma máquina puede usar al invierno al inverno, robándole calor al exterior e inyectando calor dentro de la casa, y en el inverno, cuando funciona de esta otra manera calentando, el factor de eficiencia ya no se llama EER, se llama COP, Coefficient of Performance. O sea, el coeficiente de desempeño. Se vos andate a prendere el catalogo de uno que fa pompe de calore, de un costruttor de pompe de calore, le pompe de calore vengono classificate a seconda de cual sistema utilizan como sistema freddo a cui prelevare calore, cual sistema caldo utilizan para dar este calore. Si van a ver el manual, las bombas se van a clasificar en función del sistema que tienen para capturar el calore, de donde sacan esa energía, también en función de la forma de entregar ese calore. por ejemplo, como serbatoio freddo, la pompa de calore potrebbe usare l'aria esterna, potrebbe usare l'aria de uno spazio interno preriscaldata, potrebbe usare l'acqua, por ejemplo, si hay un fiume, un lago, si hay de agua sototerra, puedo prender esta agua y prelevare calore de esta agua, oppure puedo usar directamente el suolo. Entonces, por ejemplo, como sistema de captura de energía, puedo usar el aire exterior, puedo usar aire interior, puedo usar agua que estén en la superficie, tipo un río, o pueden ser napas subterráneas, puede hacer con intercambio o robarle calore directamente al suelo, con intercambiadores horizontales o verticales que llevan un poco más en profundidad. Y como serbatoio caldo, la pompa de calore puede ser usada para escaldar agua o escaldar aria. Y para entregar esa energía puede entregar bajo la forma de agua caliente o aire caliente. en los cálculos, en los cálculos, la pompa de calore se distinguen andando a indicar cosa usan como sorgente fredda, como serbatoio freddo, y como serbatoio caldo. Entonces, el primer termino indica siempre el serbatoio freddo, el segundo termino el serbatoio caldo. Entonces, tenemos agua-acqua, acuaria, aria-acqua, aria-aria, geotérmico, suolo-acqua. Aquí tenemos entonces distintas combinaciones de esos distintos sistemas de captura y de entrega. Aquí al principio siempre se ve la forma de captura, de dónde saca esa energía. Si la va a sacar del agua, si la va a sacar del aire o si la va a sacar del suelo. y aquí la forma de entregarlo. Entonces entrega combinaciones de agua-acqua, por ejemplo, agua-aire, aire-agua, aire-aire, o suelo-agua, como son las bombas más frecuentes que se ven que están enterradas y que luego calefaccionan agua domiciliaria. Por ejemplo, esta es una pompa que prende calore dall'acqua que hay en un fiume vicino a la casa. Yo, tramite una serpentina que voy a meter dentro l'acqua, prendo calore dall'acqua. El vantaggio es que, aunque sea el aire durante el inverno va bajo cero, dificilmente el agua va bajo cero, queda alrededor de 10 grados. Entonces, yo puedo prelevar calore de algo que es más caldo. Ahí, por ejemplo, hay un intercambiador de calor agua-agua que va a buscar como fuente de calor un cuerpo de agua que está cerca. La ventaja de eso es que si la temperatura del aire baja, no sé, debajo cero, difícilmente ese cuerpo de agua se va a congelar. se va a mantener una temperatura que anda alrededor de 9 a 10 grados, que ya son 10 grados de delta con respecto al aire, por lo tanto tenemos ahí una fuente de calor de la cual es más fácil robarle agua. O sea, robarle calor, perdón. Quindi, prendo calore dall'acqua e scaldo l'acqua del mio impianto. Per esempio, lo vado a mandare ai radiatori di prima o all'impianto a pannelli radianti e scaldo la casa. Devo robar calori con eso puedo calefaccionar mi casa. un otro ejemplo es una pompa que prende agua de sottoterra tramite 2 pozzi. Uno de prelievo, prendo esta agua, la uso para cambiar calore con la pompa, tramite la pompa de calore, y la rebuto dentro del terreno en manera tal de no crear problemas en el terreno. Aquí se ven dos pozos. De uno se saca el agua y del otro se inyecta, entonces el agua sale, se pone, se mete dentro del intercambiador, se le roba el calor y luego se vuelve a inyectar en el terreno para no tener problemas con el flujo de agua. Se usa solamente el calor. Entonces, en este caso, uso agua de sottoterra que en este caso, aunque sea una giornata muy, muy fredda, no va nunca más bajo. Serán más o menos la media anual. Y la temperatura del terreno. Entonces, por ejemplo, la media anual de la temperatura del aire en esa localidad. Si. Que más o menos, si uno hace un posto, ya pasando 3 o 4 metros por abajo, la temperatura del terreno deberá ser la media anual. Por lo tanto, uno puede trabajar con esas temperaturas ya que son mucho mejores que las temperaturas del aire. Esta es una pompa, invece, que prende calore direttamente dall'aria esterna. Entonces, una presa de aire, prendo durante el inverno aria, la faccio pasar en la pompa, le prelevo calore, la meto fuera en el calor, lo paso al agua del impianto. Esta es otra pompa que agarra el calor por acá, lo meto dentro de la máquina, agarra aire, perdón, por acá, le quita el calor y lo tira el aire más frío hacia afuera y ese calor que generó acá, lo puede usar para calentar el interior del recinto o de la casa. es como un refrigerador, es como un refrigerador, es como un refrigerador, al mismo principio. este es una pompa que prende calore del terreno con uno scambiatore orizzontale, cioè i tubi sono messi ad una distanza di un metro, un metro e mezzo dal piano di campagna. Invece, in questo caso, ho due tubi verticali che vanno giù in profondità fino a 100 metri di profondità, 100-120 massimo di profondità. Un sistema però un po' diverso, no? perché proprio quando arrivi a 100 metri comincia a fare efecto la geotermica. Si, ma su questi primi 100 metri praticamente la temperatura rimane costante. Ok. Aquí se ven dos intercambiadores de calor, uno que es orizzontal che, en este caso, funciona un metro y medio más o menos de profondità y aquí hay otros que van en vertical sobre todo cuando hay poco terreno uno puede bajar y dice que más o menos hasta 100 metros se puede bajar digamos con unos tubos en vertical. Y le preguntaba si ella empezaba a hacer efecto a la geotermia realmente poder empezar a sacar calor de lo que está generado al centro de la tierra o sea que no, que más o menos se mantiene parejo al nivel de los primeros 100 metros. Depende después un poco de donde se encuentra. Il vantaggio di questa soluzione e in particolare di questa soluzione è che il terreno è molto molto stabile come temperatura durante tutto l'inverno quindi la pompa continua a lavorare con un terreno che rimane più o meno costante come temperatura invece quando lavoro con una pompa d'aria come questa la pompa durante l'inverno lavora con un fluido che continua a cambiare sempre di temperatura per cui ci sono le giornate in cui è più freddo che la pompa fa fatica ci sono le giornate in cui è meno freddo la pompa di calore va meglio perché come la pompa idraulica le prestazioni della macchina dipendono dalla differenza di temperatura più i serbatoi si allontanano come temperatura più diventa faticoso pompare più si stringe la differenza più è facile pompare se il serbatoio esterno mi rimane costante e ho bisogno sempre di acqua a quella temperatura la macchina lavora a prestazioni costanti ma se i serbatoi si allontanano come temperatura la macchina continua a lavorare con prestazioni diverse la ventaja diciamo che funzionano con il terreno soprattutto la temperatura è constante per lo tanto la macchina funziona sempre con il mismo nivel di esfuerzo si vemos questo comportamento per esempio di questa macchina la macchina la macchina cambia la temperatura a lo largo del giorno o a lo largo del invierno e per lo tanto se la temperatura si aleja molto della temperatura che voglio lograre la temperatura da fuori si aleja la macchina tende a lavorare molto più bombando più calor per arrivare alla temperatura interna che si necessita quindi consumo più energia per pompare la stessa quantità di calore addirittura in alcuni casi se le due temperature si allontanano troppo la pompa non ce la fa è come quando la pompa idraulica gli chiedo di portare l'acqua da qui a due metri di altezza ce la fa se gli chiedo dieci metri di salto la portata d'acqua che riesce ad arrivare a dieci metri potrebbe essere piccolissima è un po' il primo principio lo che passa con l'acqua si abbiamo due estanque e queremos bombeare a questo possiamo dimensionare la macchina e farla lavorare sempre in queste condizioni però si uno dei due estanque se aleja la macchina deve lavorare più necessita più energia per poter bombear questo differenziale e può arrivare un punto in cui il differenziale sia suficientemente alto come per che la bomba non se la pueda per tirare l'acqua qui è esattamente lo mismo con il calore quindi conviene tenere situazioni in cui il differenziale di temperatura sia relativamente stabile quindi questa soluzione è sicuramente migliore della soluzione con aria ma qui io devo comprare la pompa di calore più devo fare questo che ha un costo abbastanza alto in Italia per andare giù di un metro per piantare il tubo di un metro sotto pago 50 euro ogni metro che infilo sottoterra quindi se mi servono 100 metri di sonda sono 5000 euro soltanto per infilare il tubo a cui devo sommare quello che spendo per comprare una pompa di calore invece nella pompa d'aria non ho niente da comprare si dice che chiaramente è meglio fare il sistema con la perforazione hacia abajo però se si si non lo so ma cosa come si fa il calcolo della lunghezza dipende dal tipo di terreno che hai quindi prima di tutto devi fare un'indagine di che tipo di terreno se il terreno è un terreno molto secco e asciutto il terreno può scambiare poco se il terreno è molto bagnato umido scambia meglio tipicamente in Italia si dice che ogni metro di tubo ti permette di scambiare 50 watt ok ma dipende da zona a zona ci sono delle zone in cui scambio veramente 50 watt al metro in altre zone 30-25 quindi questo sistema che è un pollo che va in profondità cuesta 50 euro per cada metro che baje ma dipende dal terreno un terreno più umido cambia meglio si è una regla così gruesa 50 watt per metro e 50 euro tambien per metro e questo è lo che cuesta solamente è necessario fare questo luogo e questa perforazione e poi bisogna comprare la macchina inoltre ci permette di lavorare in terreni riduciti e anche dipende della umidità del suolo un suolo molto secco intercambiare meno energia che uno che è più mossa nella macchina d'aria invece le prestazioni sono più scarse perché l'aria continua a ballare come temperatura ma non devo comprare altro se non la pompa di calore inoltre 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 le prestazioni possono essere condizionare fortemente per la fluttuazione dell'aere però non è che comprare nulla se la macchina è detta questo spiega come fa una pompa di calore in una giornata molto fredda a prendere calore dall'aria esterna uno potrebbe dire ma se l'aria esterna è a zero gradi che calore prendo? la macchina funziona con un fluido frigorifero all'interno che io metto in contatto per esempio in una giornata in cui ho meno 10 fuori questa è la temperatura dell'aria fuori io dentro al tubo dello scambiatore che è a contatto con l'aria esterna viaggio con un fluido frigorifero che è a meno 20 questo fluido frigorifero a meno 20 quando tocca l'aria esterna si scalda e cambia di fase diventa vapore questo calore quindi lui l'ha preso dall'aria a meno 10 a questo punto con questo vapore a meno 15 non ci faccio niente lo mando in un compressore il compressore comprimendo il vapore lo fa andare su di temperatura fino in questo caso a circa 110 gradi con questo freno a 110 gradi lo mando in un altro scambiatore che funziona da condensatore dove incontra l'acqua dell'impianto e in questo modo l'acqua dell'impianto incontrando questo freno a 110 gradi si scalda e posso mandarla ai radiatori ai pannelli radianti e a quello che voglio funziona funziona eh ah si ma o meno diciamo che abbiamo una temperatura di meno 10 a fuori quindi funziona con un liquido che tiene una temperatura di evaporazione molto bassa in questo caso è l'R407 che è un tipico fluido frigorifero che viene usato in queste macchine è il tipico liquido che si chiama R407 che tiene una temperatura di evaporazione di meno 10 meno 15 qui sta quindi si manda questo liquido a fuori a meno 20 in forma di liquido si pone in contatto con l'acqua che sta fuori a meno 10 e si evapora perché la temperatura di evaporazione è meno che quindi ora come vapor si meti a un compresor e il compresor lo comprime e al comprimirlo le supe la temperatura se ha fijato che quando uno descomprime un gas se sente frio è típico che uno un spray se sente helato perché si sta descomprimendo qui è il effetto contrario al comprimirlo se calienta e al momento di essere caliente se hace l'intercambio con il sistema di circolazione di acqua interno e con questo si può calentare l'acqua che sta in contatto con i radiatori e tutto questo per esempio questa macchina produce acqua a 40 gradi per esempio questa macchina produce acqua a 40 gradi dal punto di vista teorico se consideriamo la macchina in inverno la sua prestazione il COP si diceva prima coefficient of performance teoricamente dipende solo dalle temperature dei due serbatoi tra cui lavora secondo questa formula che è dovuta a Carnot nessuna pompa di calore realmente lavora così perché non si è capace di fare delle macchine ideali la macchina di Carnot è una macchina senza perdita che lavora reversibilmente non sono macchine reali però ci serve per capire come cambiando le temperature mi cambia il COP questa formula explica il funzionamento delle macchine e descrive diciamo che in termini ideali e teoricali che in pratica in realtà non è così ma in termini teoricali la efficienza il coefficiente di efficienza della macchina in realtà dipende unicamente delle due temperature tanto di captura come di entrega per esempio questo è un esempio numerico se io ho una pompa d'aria che prende calore dall'aria esterna in una giornata invernale a 0 gradi per scaldarmi l'acqua a 40 allora TH per me sarebbe 40 TAM sarebbe 0 ora questa formula funziona solo se le temperature sono in Kelvin quindi devo aggiungere a tutte 273 quello che ottengo è 7,8 come COP qui le temperature sono in gradi per questo le sumo il 273.15 e abbiamo la temperatura a la qual quiero operare partito per il differenzial di temperatura che existe e la temperatura ambiente qui sta la formula 40 più 273 per lasciarlo in Kelvin lo stesso però questo è il differenzial di temperatura entre 40 e 0 considerando che a fuori tengo una temperatura ambiente di 0 e mi entrega un COP di 7,8 che non esiste non esistono pompe di calore che hanno quel COP tipicamente una macchina d'aria in quelle condizioni potrà avere un COP 3 e la differenza sta nelle perdite interne alla macchina noi non siamo capaci di fare quelle macchine però questo è l'ideale è il massimo questo è il massimo teorico poi l'efficienza è determinata in realtà per perdita e per altri fattori di disegno che portano una macchina oggi a lavorare alrededor di un COP 3 ma questo mi permette di spiegare due cose molto importanti delle pompe di calore la prima cosa se io vado a graficare come va la prestazione della pompa in funzione della temperatura dell'aria esterna si vede che a parità di questa temperatura se la temperatura dell'aria esterna scende le prestazioni della macchina scendono quindi la macchina lavora meglio quando fuori è caldo lavora peggio quando fuori è freddo ma a me serve che funzioni la macchina quando è freddo quindi questo è il primo lato negativo delle pompe di calore vanno bene quando fuori non è troppo freddo qui si vede la efficienza energetica mapeata contro la temperatura e si vede che le prestazioni o la efficienza energetica diminuiscono la temperatura ma in realtà noi vogliamo che funzioni bene quando fuori è freddo quindi è il primo lato negativo delle pompe di calore e l'altro lato negativo è che il suo valore di COP scende se chiedo alla pompa di fare acqua più calda se io chiedo alla pompa di fare acqua 35 ho certe prestazioni se gli chiedo di fare acqua 75 le prestazioni crollano quindi la pompa di calore si presta per fare acqua non troppo calda quindi questo vuol dire pompa di calore non la posso legare con i vecchi radiatori che chiedevano l'acqua a 80 gradi li devo per forza per collegare una pompa di calore a pannelli radianti a pavimento a soffitto sistemi che lavorano con acqua a bassa temperatura lo otro lo otro lo otro lo otro que se puede leer a partir de este gráfico es que las prestaciones de las bombas de calor disminuyen fuertemente si es que le pido mayor diferencial de temperatura mientras más caliente le pide el agua más caen las prestaciones de la máquina si le pido agua 35 tiene esta curva si le pido agua 75 tiene en realidad estas prestaciones eso significa que las bombas de calor funcionan muy bien o en realidad hay que usarlas no con los sistemas tradicionales de radiadores que piden agua a 70 o 80 grados sino que con sistemas de calefacción que ocupan agua a baja temperatura como por ejemplo las losas radiantes o los techos radiantes que demandan agua a 30 o 40 grados Allora adesso proviamo a accoppiare una casa con una pompa de calor per vedere cosa succede Ahora vamos a aplicar una bomba de calor a una casa de madera para ver qué pasa Prendo la pompa de calor la pompa la pompa de sollevamiento no me chiede sonde geotermiche compro la macchina e ho finito Aria-acqua va a usar la bomba de calor aire-agua que permite sacar calor del aire porque no pide hacer ni olio ni escavaciones ni nada simplemente la prima cosa che devo fare è caratterizzare la richiesta di energia della casa come abbiamo fatto oggi con quell'esempio io mese per mese considerando le temperature questa è Bologna quindi sono invertite rispetto a voi questo è l'inverno e questo è l'estate diciamo l'estate qui in mezzo tra aprile e ottobre questo è soltanto il riscaldamento e questo è il fabbisogno di energia lo posso tradurre questo fabbisogno di energia in una sorta di richiesta di potenza media mese per mese nei mesi più freddi la casa chiederà più potenza nei mesi meno freddi la casa chiederà meno potenza se io vado a riportare i valori di potenza in funzione della temperatura esterna vedo una cosa semplice la casa chiede più potenza quando è più freddo questa curva si chiama firma energetica della casa è la firma energetica della casa questa firma energetica la posso incrociare con la curva della pompa di calore perché abbiamo visto che la pompa di calore tende a perdere prestazione quando la temperatura va giù quindi quando io vado a mettere una pompa di calore dentro un edificio in legno ma in un qualsiasi edificio io devo succede una cosa di questo genere devo scegliere una pompa che alla temperatura dove io incrocio la curva dell'edificio questo punto viene chiamato punto di bivalenza perché è l'unico punto in cui la pompa di calore da esattamente quello che chiede l'edificio questo punto fa la differenza nel dimensionamento della pompa perché perché quando la temperatura dell'aria esterna mi va sotto il valore della temperatura di bivalenza la pompa di calore non ce la fa più a dare la potenza che chiede la casa mentre quando sono sopra la temperatura del punto di bivalenza la pompa di calore mi dà più energia più potenza di quella che mi chiede la casa quindi questa è la firma energetica della casa questa è la curva di rendimento della bomba di calore e hai che cruzar le due informazioni e è importante conoscere questo punto che è il punto di bivalenza che è il punto in cui la demanda si la demanda energetica del edificio sta giusto calzata con la energia che può entregar la bomba di calore quindi hai bisogno che io integro con qualcosa quindi se usiamo questa bomba di calore hai bisogno di aiutarla per poter conseguire il livello di calefazione interno che necessitiamo andando verso la direzione la bomba entrega più energia di quello che chiede la casa per lo tanto tutta questa demanda da qua può essere cubierta tranquillamente per la bomba in questo caso con il sistema di regolazione della pompa di calore riesco a far lavorare la pompa per dare quello che serve ma quando la temperatura va sotto questo punto non ce la faccio devo mettere di fianco alla pompa qualche cosa quindi tutto questo che sta qua con il sistema di regolazione della bomba posso calzarla e posso farla entregare giusto lo che necessita l'edificio qui già hai che supplir con qualcosa ma delle oscillazioni termiche importanti quindi la temperatura più bassa che si generano in un analisi psicométrico si generano tra le 3 e 5 della mattina con lo quali il uso teore di la bomba calor chiaro che sta diminuendo a esas ore che nel fondo sono la notte con lo quali sempre le temperature che sono tra le 6 e 30 6 della mattina a 7 tiendono a essere quasi un 90% di temperatura arriva e basso cioè un povero 0 5 10 sono pocos via con lo quali si si potrebbe utilizzare una bomba calor potrebbe essere un tema di orario viene utilizzato il tema della bomba calor questo è una cosa molto particolare questo è una cosa molto particolare perché per esempio in Italia non abbiamo questa combinazione di temperature durante la fase finale della notte però bisogna tener conto di questo fatto perché altrimenti la pompa di calore potrebbe andare in crisi si potrebbe si diciamo tutto questo è che sommetere l'analisi e vedere la curva dell'attretazione della bomba il perfil dell'edificio e assicurarsi che non stiamo soverexigendo esatto la cosa importante se vuoi andare solo con la pompa di calore è che la temperatura bivalente di questo punto sia corrispondente alla temperatura più bassa che tu hai nella curva dei DIN di Concepcion se a Concepcion la temperatura più bassa è 2 gradi questa temperatura bivalente deve cadere a 2 gradi a quel punto la pompa ce la fa sempre se va una giornata sotto i 2 gradi non ce la fai per disegnare in fondo un sistema che funzioni solo con bomba di calore è importante che questo punto da qua stia sempre por debaixo del valore più bajo che vas a incontrare in Concepcion per esempio se disegnati in Concepcion una che tenga un valore meno 1 che si incontra in questo punto in meno 1 gradi sta impiegato e vas a poter sempre funzionare con la pompa di calore quindi questo è come normalmente si progettano i sistemi a pompa di calore con la sola pompa di calore l'altro modo è prendo una pompa di calore più piccola quindi per esempio sposto se prendo dal catalogo una pompa più piccola la curva della pompa potrebbe essere questa qua quindi il punto bivalente si sposta in avanti a quel punto accetto che in alcune ore la pompa non ce la faccia a lavorare da sola e quindi l'aiuto con una resistenza elettrica oppure con una caldaia sono i sistemi ibridi in Italia in questo momento molte ditte italiane producono dei mobiletti dentro ai quali c'è la pompa di calore e la caldaia insieme e fino a quando ce la faccio vado solo con la pompa di calore quando vado la temperatura esterna mi va sotto la temperatura bivalente accendo la caldaia e do una mano con la caldaia alla pompa di calore che ora si usano molto i sistemi ibridi in cui in un mismo apparato hai una bomba di calore e una caldera e quindi se la caldera già non può entregare l'energia sufficiente si echa andare la caldera e con questo compensa questo ti permette di mettere una pompa più piccola e quindi di risparmiare sull'acquisto della pompa di calore ti ahorras perchè il costo della bomba di calore va a essere meno perchè la bomba di calore va a essere più piccola però spenditi più con la caldaia si spendi di più in alcuni casi se per esempio tu hai l'impianto fotovoltaico sul tetto anziché fare un sistema ibrido pompa di calore e caldaia fai pompa di calore, resistenza elettrica perchè sai che l'energia elettrica potresti farla col fotovoltaico e potresti non pagare niente quindi dal punto di vista economico perchè la pompa di calore consuma energia elettrica quindi se io ho fotovoltaico una volta spiegato il principio della pompa di calore passiamo a vedere quali sistemi vengono proposti per le case in legno che sistema si propone specificamente per la casa di madera allora cerchiamo di fare il riassunto di tutto quello che ho detto oggi questa mattina abbiamo parlato dei flussi che escono da questa abitazione abbiamo visto che esce per trasmissione dell'energia ed esce soprattutto qualcuno di voi ha fatto un intervento credo lui molto per ventilazione quindi la casa perde perchè tramite le infiltrazioni e ventilazione perde energia sia in estate che in inverno allora l'idea qual è? pensiamo all'inverno per esempio dentro casa voglio 20 gradi fuori ho 0 gradi se mi entra dell'aria da fuori mi entra dell'aria a 0 gradi e io perdo aria a 20 gradi quindi ho una grossa perda di energia l'idea qual è? quella di fare incontrare questi due flussi di aria in maniera tale che l'aria che porto dentro casa che prendo a 0 gradi incontri l'aria che va fuori di casa che è a 20 gradi in questo modo l'aria a 20 gradi quindi preriscalda l'aria che faccio entrare grazie a uno scambiatore di calore quindi il sistema praticamente prevede che io nella mia casa vada a posizionare dei tubi che prelevano aria da dentro la casa attraverso un ventilatore normalmente il prelievo dell'aria lo si fa in due posizioni nella cucina e nel bagno perché in questo modo elimino anche tutti gli odori e l'umidità e l'umidità quest'aria calda la porto nello scambiatore dove arriverà l'aria da fuori quindi l'aria da fuori a 0 in inverno incontrerà nello scambiatore l'aria umida e calda che ho dentro casa quindi quest'aria a 0 non la immetto più a 0 la immetto più calda ma siccome ancora non è arrivata la temperatura che serve per riscaldare vado con la pompa di calore a dargli una riscaldata e a quel punto riesco a scaldare e attraverso dei tubi di plastica porto l'aria in tutte le stanze e la immetto direttamente qual è il vantaggio qui? che non gira acqua non c'è acqua io porto in giro solo aria spinta in entrata e in uscita e non ho acqua che gira dentro la casa in legno che è come dicevamo prima un pericolo nel caso in cui riesca quindi questi sono principi lo che avevamo in la mattina era la idea che la vivienda perde energia e perde energia a través della tramitancia dei muri però anche perde energia per concepto di infiltrazioni e di ventilazione questa ventilazione tiene che succedere non è qualcosa che noi possiamo evitare necessitiamo rinnovare l'aria ma anche perché l'umidità non deve salire perché se sale l'umidità il legno aumenta il rischio di essere attaccato dalle buffe quindi io devo per forza cambiare l'aria dentro a queste quindi ho la necessità di cambiare l'aria ce l'ho ma ho anche la necessità di scaldare e di raffreddare posso unire tutto in un impianto di questo genere qua necessitiamo quindi ventilare ventilare per renovare l'aria per eliminare per eliminare l'excessi di umidità che non vanno a condensare in le muri di madera che abbiamo che poi poi necessitiamo mantenere la temperatura interna o o eso queremos al fondo il problema è che si abrimos la ventana il aire che sta dentro che supponiamo che sta a 20 gradi va a salire e vamos a perder aire che sta caliente vamos a perder temperatura e va a entrare che a lo mejor a fuori sta a 0 o a 5 e quindi stiamo perdendo molta energia stiamo renovando il aire però stiamo perdendo molta energia che è lo che se ha o che è lo che ha con questo sistema di ventilazione è un intercambiador di calor che pesca il aire di fuori e lo cruza mediante un radiador con il aire che va salendo da dentro di questa maniera di questa maniera si può pescare il aire che viene entrando che sta a 0 o 5 gradi e si cruza questo con il aire che va salendo a 20 gradi il aire che sale se saca di la cucina e di los baios perché è in la cucina e in il baios sono le maciune le maciune le maciune le maciune e la maciune la maciune di contaminazione atmosferica se si fanno se si fanno se fanno se fanno la maciune ci fanno la maciune quindi c'è la maciune e ci sono e si fanno interessante in termini di flujo di air interno che in i lavori e in la cucina si genera pressione negativa e per lo tanto i olori di la cucina, i olori di i lavori non circulano per tutta la casa, sino che si van direttamente hacia afuera. Ese aire è il che passa per il intercambio di calor, calienta il radiador, si mette il aire frio che viene da fuori, si precalienta, non alcanza a recuperarsi il 100% della energia e il delta che queda è lo che si le encarga a la bomba di calor e la pompa di calore in queste condizioni lavora bene perché lavora tra due temperature che sono molto vicine, 20 e 0, 20 e 2 gradi, un delta T molto piccolo per cui la pompa di calore riesce a fare prestazioni molto molto buone. Sì, ma anche se tu hai una temperatura molto, diciamo, con un grado igrometrico elevato, tu riesci lo stesso a spostare energia da una corrente all'altra, riscaldando, portando ai 20 gradi l'aria che devi immettere dentro la stanza. Sì, anche se l'aria è molto saturato, al subito, al subire la temperatura, diminuisce la temperatura relativa, per lo tanto è uguale entra seco, non c'è un problema. Ti sacchi l'aria caliente che sta dentro, super saturato, e lo sacchi e evitati che tutto il contenuto di vapore si condensi dentro. In pratica, io qui me la potrei cavare anche con uno scambiatore, io posso anche mettere solo uno scambiatore, e faccio questo scambio. Solo con un intercambio a ordià va bastante bene. Ma se ci metto una pompa di calore, lo scambio di calore tra i due flussi diventa molto più forte, e io riesco a scaldare tutta la casa, con la pompa di calore di estate posso fare l'inverso, posso raffreddare, controllo l'umidità, e quindi con una macchina che ha uno spessore di 40 centimetri, lo posso mettere nel controsoffitto, dei tubi di plastica che portano l'aria alle varie stanze, io ho chiuso l'impianto, e faccio caldo e freddo. E poi controllo di umidità. Controllo di umidità, ventilazione, ricambi d'aria controllati. Quando in fase di installazione, devo mettere su un impianto del genere, devo fare solo due fori che passano da dentro e fuori. Quindi mentre costruisco, posiziono i due fori dove entrerò e uscirò, ho finito, non ci sono altre interazioni, non ci sono tubi da portare nelle stanze, non ci sono massetti da mettere per posare il pavimento, non c'è niente da fare, soltanto tubi di plastica, trattati internamente, in maniera tale che non si sviluppi dei batteri all'interno di quei condotti che portano l'aria alle stanze. Fine. Grossi quanto? Diciamo, normalmente sono da 63 o da 75 mm, quindi la dimensione massima sono 7,5 cm. Allora, uno potrebbe arreglarla solamente con l'intercambiador di calore, ma in realtà se le pones una bomba di calore a tutto questo sistema funziona di maniera molto più efficiente. Quindi l'intercambio di calore è molto migliore. Questo è una macchina che ha circa 40 cm di altura e che si può piegare per debbaio, diciamo. Ci sono macchine orizzontali, da controsofitto, e ci sono delle macchine che possono essere montate esternamente. Quindi non metti niente in casa. La pompa di calore sta qui dentro. Se c'è qualche perdita, sei fuori dalla tua casa in legno, non c'è nessun tipo di interazione. Hai alcune macchine che sono orizzontali che si possono piegare per debbaio della losa o del pezzo. Alcune macchine sono verticali che si possono piegare per fuori. E hai solamente due perforazioni che entrano alla casa e si encargano di fare tutto il circuito. Come in questo caso qua. Come si vede qua, vanno principalmente per la circolazione. Lo passaggio, diciamo. Qui hai due riprese, che sono questi due, i due canali caldi, e poi questo che porta l'aria fredda in tutte le stanze. E funziona sia d'estate dove tu hai l'aria espulsa a 24 e hai l'aria che sta entrando a 30. in questo modo l'aria freddi e poi la pompa di calore gli dà l'ultima botta. E' la stessa cosa di inverno. Funziona tanto inverno come inverno. Puoi enfriare e puoi calentare. E tengo solamente due perforazioni della casa, con questo si hace cargo di tutta la installazione di climatizzazione della casa. Se generano flujo di pressioni e vaciosti super buoni dentro della casa. Se controla la humedà di tutto il sistema. Per lo tanto, se le disminuye la responsabilità a le disminuye la responsabilità a le distinti barreras di vapor che uno tiene che mettere e al tratamento della fachata. Si generano le rinnovazioni di aire necessarie per mantenere una buona oxigenazione interna. Funziona... E' completo. Si, funziona completo. E si può installare facilmente pegato al techo. Questa è una macchina a installazione esterna per un appartamento da 70 metri quadrati con le bocchette previste nelle varie stanze e le bocchette di ripresa dell'aria dal bagno e dalla cucina. Queste sono 70 metri quadrati. Questa macchina, per esempio, è per 70 metri quadrati e ha schematizzato tutto il sistema di inyeczione di aere caliente e le tomate di aere... L'altra cosa interessante è che non hai bisogno di mettere radiatori quindi non sottrai spazio in nessun modo non devi fare massetti è un sistema molto più flessibile per l'uso del spazio non hai radiatore non hai bisogno di mettere la cosa radiante non ti preoccupi di fare la filtrazione non hai nessun problema Quanto costa? Si Diciamo che c'ha... è il costo tipico di una pompa di calore ad aria in Italia un sistema del genere può costare per un appartamento da 70 metri quadrati può costare 5.000-6.000 euro 5.000-6.000 euro per 70 metri quadrati 5.000-6.000 euro per 70 metri quadrati ci sono delle 4 milioni 4 milioni 4 milioni quella è da in BTU in kilowatt quella un'Italia è da 12 kilowatt di freddo 12 12 12 12 sì il tuo tubo si è voluto di dire che le preguntate il diametro di questo tubo sono 63 o 75 millimetro di diametro dipende dalla portata se avete ambienti molto grandi possono aumentare può arrivare anche a 150 millimetri ma di solito si usano per stanze normali tubi da 75 quindi molto piccoli passa tutto sul controsoffitto nel caso in cui uno deve pulire è facile smontare andare a prendere il tubo la manutenzione è molto semplice e non ci sono perdite non potete avere perdite se avete perdite avete perdite d'aria ma per il legno questo non ha nessun tipo di se hai alcun tipo di perdita è perdita di aire e da lo mismo per la madera i 100 metri di tubo di este che tiene una protezione per dentro come bactericida e tutto questo tipo di cose 300 euro 300 euro per cada 100 metri di tubo per lo tanto è lo più facile sempre sempre va sul soffitto è più facile beh in questo caso per esempio hanno messo la macchina fuori questa è fuori dalla dopo di che hanno messo una cassetta di distribuzione entrano solo con un foro fanno solo un foro poi entrano qui questa cassetta distribuisce alle varie stanze in maniera tale di avere un unico canale di entrata un unico canale di uscita il canale vedi questa è l'espulsione e questa è l'aria calda che poi la vai a mandare dentro i locali così è sempre solo due buchi la macchina sta fuori entra in due punti nella casa poi si distribuye con questa camera normalmente è in alto l'immissione è in alto o a parete o a soffitto quindi puoi avere anche delle bocchette che sono a soffitto e che tendono a distribuire l'aria in questo modo qua mai l'aria sulla testa delle persone l'aria deve camminare sul soffitto e creare un moto convettivo all'interno il esquema típico che ho visto in edificio in afuera è questo c'è un passaggio nel quale il cielo falso sta più basso e poi va tutto e quindi ti encuentras con le tomate di aire così come questa meglio ejecutata a lo largo del recinto e poi entro l'aria l'aria e l'aria e non necessità di questo cappone qui sta il cappone probabilmente per l'arruz o per il diseño non so però vai è facile come questa questa qua questo è diciamo lo schema della macchina con recupero dinamico cioè con la pompa di calore questa è l'aria per esempio questa è l'estate questa è l'aria che prende della casa che è a 26 gradi l'aria esterna è a 35 io posso con l'evaporatore sottrarre calore a questa a quest'aria e quindi la raffreddo e la mando dentro le stanze e la passo a quest'aria tanto quest'aria la butterò fuori e quello che viene passato non è in uno scambiatore al massimo scambio uno qui scambio più di uno perché il COP abbiamo visto che è 3 4 quindi io riesco a moltiplicare il calore che passa da un flusso all'altro questo è un sistema di recuperazione dinamica che funziona con la bomba di calor quindi non è a través di un radiador sino che evaporo il liquido che avevamo l'equido refrigerante lo evaporo e con questo le robo la temperatura al aire che va entrando e il liquido poi passa a questo altro lato e qui lo faccio condensare e con questo le entrego il calore e lo butto fuori e lo butto via e questo calore lo tiro hacia fuori e questo frio lo tiro hacia dentro e questo funziona molto meglio che un radiador e la cosa interessante è che più fa caldo e più le erre della macchina aumenta quindi vuol dire che la macchina trasferisce meglio calore tra i due flussi e lo interessante di questo sistema è che mentre più calore ha fuori migliora l'efficienza della macchina e la stessa cosa succede in inverno in inverno la macchina scambia la posizione questo che prima era il condensatore adesso diventa l'evaporatore questo diventa il condensatore l'aria espulsa gli prendo calore la raffreddo ancora di più tanto la devo buttare via questo calore che ho preso lo uso per scaldare l'aria che entra dentro casa e a quel punto io con questa macchina se i muri sono molto isolati se le finestre fanno il loro dovere eccetera con questa macchina non ho bisogno di nient'altro alcuni costruttori mettono delle resistenze elettriche nel caso in cui ci sia una giornata particolarmente fredda e la pompa non ce la fa per dare un aiuto la pompa di calore è una giornata proprio sfigata ma per il resto riesco a far tutto con questa macchina e anche funziona in invierno il sistema si invierte evapora il liquido con l'aria che va salendo condensa con l'aria che va entrando logra entregar tutta la energia sufficiente per l'aria che va salendo variabile brushless il compressore in maniera tale che non è silenziosissimo anche se lo metti sul controsoffitto dentro casa non senti un grande lavoro che non fa ruido che non fa ruido questo effettivamente tiene un inversor per poter passare di invierno a verano però l'intercambio lo interessante è che l'intercambio non è via un radiatore sino che è via condensazione e evaporazione perché è molto più efficiente soprattutto quando la temperatura esterna va molto giù questa lavora meglio quindi è quello che vogliamo noi quindi questo è il sistema in assoluto più efficiente questo è quello che dicevo prima questo è il carico chiesto dalla casa questo è il carico per ventilazione se noi mettessimo uno scambiatore al massimo riusciremmo a recuperare tutto quello che buttiamo fuori quindi al massimo arriveremmo qui con la pompa di calore riusciamo praticamente a coprire tutta la zona blu mi rimane scoperto questo pezzo qua che sono diciamo le giornate più fredde e allora un aiuto tramite la resistenza elettrica oppure in alcuni casi il sistema ibrido dove la pompa di calore è aiutato anche dalla caldaia mi permette di chiudere ma la cosa interessante è che il sistema mi fa anche il raffreddamento quindi fa tutte e due le fasi archiviamo un sistema che sta disegnando non per acuverire tutto sino che per acuverire la zona azul con la bomba di calore questo altro lo cubre una in questo caso è una pompa di calore che viene aggiunta alla pompa di calore di recupero ho due pompe di calore e con due pompe di calore faccio tutto qui qui c'è una bomba di calore che si encarga della recuperazione dinamica della ventilazione e un'altra bomba di calore che si encarga di fare l'intercambio con l'exteriore sia l'aria o il suelo o lo che sia e chiudo il carico e con queste due posso cubrire tutte le necessità della casa tanto in invierno come in verano l'enfriamento e il calore è il sistema il 80% dell'energia si recupera con la bomba la bomba di recuperazione termodinamica e il 20% se le exige a una bomba addizionale quindi l'80% è gratis perché avviene gratis a parte la spesa energetica per far funzionare il compressore della pompa di calore lo recupero dall'aria che butto fuori che poi lo puoi tenere da un impianto fotovoltaico che potrei ottenere quello lì lo potrei ottenere dall'impianto fotovoltaico questo potrebbe perfettamente questa energia che stiamo occupando lo potremmo ottenere per essere l'intercambiador per far funzionare questo intercambiador termodinamico lo potremmo ottenere a partire da una celda fotovoltaica per lo tanto il sistema potrebbe essere in alcun momento gratuito se uno vuole esagerare si può fare anche di più per esempio questo sistema deve recuperare calore dall'aria esterna l'aria esterna potrebbe andare giù di temperatura per esempio durante la notte potremmo avere allora cosa posso fare l'aria prima di farla andare dentro al mio scambiatore la faccio passare in una serie di tubazioni che io ho piazzato sotto terra per esempio quando faccio la mia casa nel momento in cui faccio le fondazioni io butto giù dei tubi di plastica che rimarranno sotto il terreno l'aria esterna supponiamo una sera in cui c'ho una notte in cui c'ho zero gradi o meno due l'aria prima di farla andare allo scambiatore la faccio passare sotto il terreno si riscalda perché il terreno è più caldo di zero gradi e quindi arriva il mio scambiatore con una temperatura più alta e quindi riesco ad avere più calore a disposizione da passare all'altra aria e qui si può usare questo tipico sistema che fa passare l'aria per debbaio terra e si può usare di pre-calentare subire un po' di gradi all'aria prima di metterlo al sistema della bomba calore con questo ho già un miglior funzionamento oppure posso sfruttare l'aria che viaggia nelle facciate ventilate recuperarla per andare a mandarla dentro al recuperatore con temperatore un po' più alte sia durante l'estate che durante l'inverno posso usare l'aria che va per la facciata ventilata agarrare l'aria e mandarlo dentro del sistema perché si sta pre-calentato è chiaro che questo è più complicato perché prevede che ho tutte le tubazioni collegate a tutte le facciate ventilate però in principio sarebbe un sistema in principio si può desarrollare siamo? sì questa è l'ultima è l'ultima slide ci sono macchine anche più complicate che vi permettono di fare sia il discorso aria ma anche acqua se avete una palazzina dove ci sono alcuni locali dove mettete per esempio un'impianta radiatori un'impianta pannelli radianti e poi volete anche fare il discorso del recupero quindi ci sono tutte le possibilità potete unire pompe di calore ad aria pompe di calore ad acqua in maniera tale da produrre aria calda acqua calda nelle varie zone a seconda di quello che vi interessa per esempio quella macchina lì fa anche l'acqua calda sanitaria con l'asotto con l'asotto con l'asotto e poi si può già mesclar lo che uno quiera si nel fondo uno può ir combinando distintos sistemas qui hai paneli fotovoltaico che alimentano intercambiador di calor per la calefazione via aire qui hai altro che funziona intercambiando con il exteriore che permette fare tanto l'acqua sanitaria come anche appogliare con i sistemi di losa radiante o lo che uno chiede radiatore lo che sia necessario nel fondo e uno può ir combinando se volete delle informazioni o dei video su questi sistemi qua in Italia un costruttore molto importante di questi sistemi modulari è Clivet 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 C-L-I V-V-E-T C-L-I V-V-E-T è un produttore molto importante di macchinari di questo tipo in Italia fino a poco tempo fa se vuole informazioni è in Italia Clivet Clivet suppongo Clivet.it sì una volta era italiana adesso l'hanno comprata i giapponesi quindi non è più italiana ma è italiana nel senso che è una ditta che è in Veneto quindi però i proprietari i soldi l'hanno messo i giapponesi Mitsubishi che ha Mitsubishi comprò Clivet e ora è giapponesa però sì che funziona in Italia grazie della pazienza e grazie 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 a tutti